del 2020 in materia di motorizzazione civile, patenti di guida, autoscuole, revisione e documento unico di circolazione. Avverto che l'audizione sarà trasmessa in diretta sulla web tv della Camera dei Deputati. Ringrazio il Vice Ministro per aver accettato l'invito della Commissione e gli cedo dunque la parola per lo svolgimento della relazione. Grazie Presidente, onorevoli deputati, desidero anzitutto ringraziarvi per questa audizione che offre al Governo l'opportunità di chiarire alcune questioni che incidono in misura determinante su un comparto come quella della motorizzazione civile così strategico per la vita del Paese, tanto più nella attuale critica fase congiunturale. Desidero inoltre evidenziare positivamente come il mio intervento a nome del Governo tragga origine da una risoluzione unitaria approvata dall'intero arco politico della Commissione. Segno che di quanto le problematiche relative a tale settore siano sentite e richiedono pertanto una concreta e decisa risoluzione. Consapevole di quanto l'odierna audizione sarà importante per offrire a tutti gli operatori del settore informazioni sulle misure e le linee di azione predisposte dal Governo a tutela del comparto. Relazionerò punto per punto sulle questioni da voi poste, rendendomi fin da ora disponibili anche tramite gli uffici del Ministero ad offrire tutte le integrazioni che riterrete necessarie. A questo proposito ho chiesto al Direttore Generale della Motorizzazione Civile, l'ingegnere Calchetti, di essere presenti in modo da potervi offrire il massimo grado di completezza anche nelle risposte alle domande che vorrete rivolgere nel termine del mio intervento. Gli impegni richiesti al Governo da parte vostra, li elenco in maniera puntuale, sulla lettera A assumere opportune iniziative atte a smaltire il cronico arretrato degli uffici provinciali alla motorizzazione civile, specie per quanto concerne gli esami di guida. Nel dettaglio chiedevate alcuni punti. Numero uno, bandire concorsi per assumere esaminatori e tecnici del settore e da assicurare la possibilità, per coloro che sono stati assunti, di sostenere celermente gli esami di abilitazione. Sul punto la competente direzione generale per il personale e gli affari generali ha già rappresentato come non vi sarebbe alcun problema da gire in tal senso. Vi è infatti la consapevolezza della necessità di colmare la vacanza d'organico che ormai da troppo tempo affliggono le motorizzazioni e a tal fine si sta già reclutando personale, attingendo alle attuali graduatorie di idonei e utili su tutto il territorio nazionale. Ciò in attuazione di quanto previsto alla legge numero 56 del 2019, l'articolo 3, in base alla quale le amministrazioni dello Stato possono procedere a decorrere dall'anno 2019 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Nei limiti di tale contingente, ai sensi del comma 4 della predetta norma, già da ora può infatti procedersi all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori e allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80% delle facoltà di assunzione previste per ciascun anno nell'ambito del piano dei fabbisogni di ciascuna amministrazione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare un effettivo ricambio generazionale alla migliore organizzazione del lavoro. Numero due, valutare l'opportunità di coinvolgere personale qualificato proveniente da altri settori, come ad esempio dalle forze armate o dalle forze di polizia. In relazione a tale proposta rappresento che per la sua realizzazione sarebbe prima necessario modificare l'articolo 121,3 del codice della strada che, come sapete, dispone che gli esami per la patente e per le altre abilitazioni di guida sono effettuati da dipendenti dell'allora denominato Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici, peraltro formati con qualificazione iniziale e abilitati con esame alla luce di una normativa conforme a quanto disciplinata a livello comunitario. Tanto premesso, per un verso sembrerebbe che l'analisi costi benefici, cioè una modifica normativa per risolvere la situazione emergenziale limitata nel tempo, porti a concludere per una non adeguatezza della misura ipotizzata rispetto al fine da perseguire. Peraltro, poi, sarebbe da chiedersi cosa si intenda per personale qualificato, fermo restando che almeno per gli esaminatori addetti alle prove di guida sarebbe indispensabile previamente formarli ed abilitarli in coerenza con le richiamate disposizioni comunitarie. Peraltro, come è noto, l'articolo 20 bis della legge 120 del 2020, il recante conversione in legge con le modificazioni del decreto legge 76 del 2020, dispone che al fine di sopperire alla carenza di organico degli uffici della motorizzazione civile, nell'emore del passaggio della qualifica di addetto a quella di assistente, ai sensi della tabella 4.1, articolo 332, allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 16 dicembre 92, numero 495, il personale in servizio presso gli uffici della motorizzazione civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto il Ministro dell'Infrastruttura e dei Trasporti il 12 aprile 2018, recante corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida, pubblicato nella casetta ufficiale 107, 10 maggio 2018, e ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida. Quando stabilito dal cosiddetto decreto semplificazioni, mette dunque in atto un cospicuo rinforzo nella platea degli esaminatori, pari a circa 100 abilitati, che ha già dato i suoi frutti, in quanto, come meglio dirò dopo al punto sub numero 5, è già stato recuperato tutto l'arretrato accumulatosi in periodo del lockdown. Punto 3. Adottare iniziative, anche normative, volte a dare piene attuazioni a quanto previsto dalla direttiva 126-2006-CE, con riferimento all'estensione delle patenti da A1 a patenti A2 e A. In merito al sul riportato impegno, si osserva che l'allegato sesto della citata direttiva prevede che gli Stati membri possono consentire di estendere la patente di guida alle categorie A1 e A2, rispettivamente alle categorie A2 e A, oltre che tramite esami, anche tramite la frequenza di un corso di formazione di almeno 7 ore. In sede di recepimento di tali disposizioni comunitarie nell'ordinamento nazionale, ad opera dal Decreto Legislativo 18 aprile 2011, numero 59 e successive modifiche e integrazioni, non si è però ritenuto opportuno di avvalersi di tale facoltà, riaffermando piuttosto il principio che il conseguimento, anche per estensione di tutte le patenti di guida, deve avvenire esclusivamente tramite esami. Si è ritenuto cioè necessario per ragioni connesse alla sicurezza e alla circolazione stradale che l'autorità pubblica preposta verifichi attraverso specifiche prove in area chiusa e nel traffico, tanto la capacità di un conducente a condurre un veicolo quanto i comportamenti del conducente stesso nel traffico. Tuttavia, nell'ambito di un tavolo tecnico permanente che si intende istituire fra il MIT e le associazioni di categoria, che ha già comunque dato i primi risultati operativi, il Governo valuterà la possibilità di avvalersi di quanto già consentito dalla normativa europea e quindi di estendere la patente di guida dalle categorie A1 e A2 rispettivamente alle categorie A2 e A tramite la sola frequenza di un corso di formazione di almeno 7 ore. È chiaro che in ogni caso dovranno essere assicurati i più alti livelli di standard di sicurezza ed è per tale ragione che al predetto tavolo tecnico permanente sarà a mia cura convocare anche le associazioni che si occupano di sicurezza stradale. Punto 4. Valutare l'opportunità di adottare iniziative per ammettere l'esercizio e il ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida tutto il personale in servizio presso la motorizzazione civile che ha superato il relativo corso di abilitazione. Indetto con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il 12 aprile del 2018 nell'emore del passaggio dalla qualifica di addetto a quella di assistente ai sensi della tabella quarta 1 articolo 332 allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Come detto appunto al punto 3 l'articolo 20 bis della legge 120 del 2020 in conversione del DL semplificazioni ha esattamente disposto nel senso da voi auspicato. Quindi diciamo intendiamo che questo punto superato. Punto 5. Valutare l'opportunità di adottare per quanto di competenza iniziative idonee a consentire una diffusa ripresa degli esami prevedendo per il periodo di emergenza Covid-19 la possibilità per le autoscuole ubicate a più di 50 km dagli uffici della motorizzazione di dar seguito a quanto previsto alla circolare MIT 7 agosto 2008 o di consentire lo svolgimento degli esami nelle sedi istituzionali degli enti territoriali che manifestano piena disponibilità alla cessione dei locali per lo svolgimento degli esami. A riguardo per inquadrare correttamente i termini della questione consentitemi di riportare alcuni dati. Gli esami pratici di guida. Mentre a tutto giugno 2020 ne erano stati svolti 40.817 contro i 91.774 del giugno del 2019 quindi con un valore pari a meno il 55% a settembre del 2020 ne sono stati svolti 95.651 contro gli 88.842 del settembre 2019 per cui c'è stato un incremento del 7.66%. Tutti svolti o in località individuate dagli uffici della motorizzazione o presso delle località designate dalle autoscuole. Verifica delle cognizioni teoriche. Mentre a tutto giugno del 2020 ne erano state svolte 72.356 contro i 93.124 del giugno 2019 per cui con un decremento del 22,30% a settembre del 2020 ne sono stati svolti 101.947 contro gli 89.838 del settembre 2019 per cui c'è stato un incremento del 13.48% tutti svolti presso strutture dell'ufficio e della motorizzazione civile. Quando riferito peraltro in concomitanza con i mesi estivi di luglio e di agosto è evidente dunque che dalla ripresa delle attività degli esami dopo il periodo del lockdown il gap operativo a quest'ultimo imputabile è stato ampiamente recuperato e che i valori in termini assoluti superano quelli corrispondenti all'anno precedente. E ciò è stato possibile oltre che con un serio impegno di tutto il personale degli uffici della motorizzazione civile anche grazie allo svolgimento delle prove teoriche presso le aule degli stessi uffici che oltre a permettere una migliore verifica della correttezza e costanza della prescritta sanificazione garantisce anche un razionale impiego degli esaminatori. Ed infatti presso le aule della motorizzazione ogni singolo esaminatore può svolgere l'esame teorico per 10-12 candidati per ora contro mediante i cinque o sei candidati per ora possibili presso le sedi delle autoscuole di più ridotte dimensioni. In ogni caso il governo è consapevole del disagio che soprattutto in alcuni territori può causarsi a seguito di una notevole distanza fra gli uffici della motorizzazione civile e le autoscuole e valuterà anche grazie al tavolo permanente con le associazioni di categoria tutte le opportune iniziative anche normative volte a risolvere tale criticità. In quest'ottica intendiamo valutare sempre nell'ambito del predetto tavolo tecnico con l'obiettivo di ridurre in un'ottica più efficiente i tempi di svolgimento degli esami la possibilità di diminuire il numero delle domande dei test da 40 a 20 mantenendo inalterata la proporzione fra le risposte esatte e derrate ai fini del superamento della prova. Punto 6. Valutare l'opportunità esclusivamente per l'esame teorico considerata l'eseguità del numero degli esaminatori di scuola guida di adottare iniziative per ovviare a tale figura sostituendola con un funzionario della pubblica amministrazione. A riguardo mi riporto a quanto già rappresentato al punto 2 sia con riferimento all'eventuale necessità di una modifica normativa misura probabilmente carente di proporzionalità rispetto al fine sia con riferimento all'articolo 20 bis del decreto di esemplificazioni che ha stabilito che il personale in servizio presso gli uffici della motorizzazione civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore indetto con decreto ministeriale del 12 aprile del 2018 e ha messo ad esercizio il ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida. Infine mi si è consentito ricordare i dati che ho poc'anzi esposto sulle attività svolte dagli uffici della motorizzazione civile da giugno a settembre che comprovano come non sussista allo Stato una situazione emergenziale. Adottare iniziative per prevedere in via transitoria la possibilità che il pagamento delle missioni in conto privato degli esaminatori della motorizzazione civile possa avvenire dopo lo svolgimento anziché in via anticipata. Tale richiesta di impegno nasceva in un momento di forte crisi di liquidità da parte delle autoscuole. Mi riferisco chiaramente al periodo antecedente al mese di luglio. Al momento attuale invece, poiché secondo quando riferiscono le associazioni di categoria, le autoscuole hanno un maggiore grado di liquidità, l'adozione di tali iniziative risulta non più necessaria. 8. Valutare l'opportunità di creare un registro degli esaminatori contenente gli abilitati alla funzione di esaminatore per il conseguimento della patente di guida a cui si è data facoltà di iscrizione a richiesta, al personale in guiescenza già dipendente del Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione e gli Affari Generali e il personale del Ministro dell'Infrastruttura e Trasporti è già abilitata alla medesima funzione. Sul punto mi permetto di rinviare ancora una volta a quanto detto al punto numero 2, sia con riferimento all'eventuale necessità di una modifica normativa, sia in riferimento all'articolo 20 bis del DL Semplificazioni, come convertito. Peraltro la misura non sarebbe priva di un impatto finanziario relativamente alla istituzione del registro che si presume dovrebbe essere informatico alla sua implementazione e tenuta. Sarebbe pertanto necessario predisporre una copertura dei relativi oneri. 9. Prendere in considerazione sempre in via transitoria una riduzione dei tempi di svolgimento degli esami pratici di guida, disponendo, onde garantire comunque la sicurezza stradale con apposito decreto ministeriale, un aumento da 6 a 10 ore di lezioni di guida certificate, che il candidato deve sostenere per poter svolgere l'esame. Sul tema si rappresenta che i tempi dell'esame di guida sono stabiliti dall'allegato secondo della direttiva 2626 CE, che prevede che la prova nel traffico per il conseguimento delle patenti di categoria A, AM, A1, A2, A, B1, B e BE deve avere una durata netta non inferiore a 25 minuti, mentre quella per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE non deve avere durata netta inferiore a 45 minuti. Tali disposizioni dell'Unione Europea sono inderogabili, anche con una norma di legge nazionale e per modificarle quindi sarebbe necessaria un'interlocuzione in sede europea per chiedere una modifica delle stesse norme comunitarie. In ogni caso, nell'ambito del predetto tavolo tecnico, il tema della riduzione dei tempi di svolgimento degli esami pratici di guida, che mi è stato anche rappresentato dalle associazioni di categoria, potrà essere ulteriormente approfondito anche nell'ottica di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale. Il Presidente mi permetta di aggiungere fuori alla relazione che se non c'è una concertazione con l'Europa rischiamo di rendere le patenti italiane non riconosciute dai paesi europei se dovessero scendere sotto i livelli minimi indicati dalla direttiva comunitaria. Per quanto invece riguarda l'aumento da 6 a 10 ore certificate, quella è una scelta che possiamo prendere tutti insieme e che comunque deve scaturire anche da un confronto con le associazioni di categoria, per cui io vorrei tenerla al centro anche di una decisione che può scaturire dal tavolo tecnico. Se però la Commissione intendeva aumentare le ore di guida certificate per sopperire alla diminuzione dei minuti della prova pratica, ecco questo mi pare di essere stato chiaro che non è chiaramente possibile. 10. Valutare l'opportunità di ridurre la quota di personale che attualmente svolge la propria attività in modalità agile. Per le misure in tema di lavoro agile non possiamo che attenersi alle disposizioni normative dettate dal Governo in conseguenza dell'evolversi dell'epidemia e alle conseguenti valutazioni del comitato tecnico scientifico così come recepite dalla funzione pubblica. Attualmente il lavoro agile è accordato a non più del 50% del personale secondo criteri di priorità individuati per la tutela primaria dei lavoratori più vulnerabili. B. Adottare iniziative per applicare anche per le autoscuole, come già stabilito per le altre attività, la misura di distanziamento sociale di un metro in luogo di quella attuale prevista pari a tre metri quadrati tenendo conto delle indicazioni del comitato tecnico scientifico. Sul punto si è già intervenuti con una circolare che recava le nuove linee guida per il contenimento del contagio Covid-19 nell'esercizio delle attività didattiche delle autoscuole e in attuazione di tali disposizioni la Direzione Generale per la Motorizzazione ha conformemente disposto riportando la distanza minima interpersonale prescritta ad almeno un metro, per cui il punto diciamo che è assolto e superato. C. Adottare senza ulteriore indugio le iniziative di competenza affinché siano adottati i provvedimenti normativi necessari a dare attuazione alla già vigente possibilità di effettuare presso officine esterne e revisioni periodiche dei veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate e dei ganci traino. La modifica è l'articolo 80 del codice della strada introdotta dalla legge di stabilità del 2019 che ha introdotto la possibilità di affidare le revisioni dei veicoli a motore pesanti anche a officine private per poter essere concretamente operante necessita di numerosi decreti di attuazione volti tra l'altro a stabilire le caratteristiche tecniche dalla strumentazione necessarie ai requisiti minimi soggettivi ed oggettivi richiesti alle officine per poter operare in tal senso. Tuttavia la modifica normativa sopracitata ha lasciato fuori dall'ambito di applicazione significative tipologie di veicoli e tra queste semirimorchi e rimorchi e dunque necessiterebbe di un'ulteriore integrazione. Mi permetto di aggiungere a margine che dalle interlocuzioni, ma io questo però proverò anche e vorrò che le associazioni di categoria lo mettano per iscritto per fare finalmente diciamo a dovuta chiarezza, ci proviene anche un diniego da parte delle associazioni di categoria ad assolvere a questo compito perché lo ritengono particolarmente gravoso e di grande responsabilità. Per cui torneremo in quel tavolo permanente e lo richiederemo nuovamente. Per quanto riguarda i collaudi dei ganci traino, le modifiche introdotte dal DL Semplificazioni all'articolo 78 del Coggio della Stata rinviene da un decreto ministeriale l'individuazione delle operazioni tecniche tra le quali non è necessaria la visita e prova fra cui potrebbe essere inserita anche l'installazione del ganciotraino perché è intenzione del governo togliere la visita e prova sia dal ganciotraino e adesso come vi dirò in seguito anche dagli impianti del gas. Infatti di individuazione di soluzioni immediate per arrivare alle norme arretrato relativa al collaudo periodico degli impianti e gas installati sui veicoli a motori non di consentire ai proprietari dei veicoli di assolvere agli obblighi di legge. La soluzione normativa è stata già individuata all'articolo 49,5 TR lettera G della legge 120 del 2020 che ha modificato l'articolo 78 il Coggio della Stata disponendo con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanare entro 90 giorni alla data entrata in vigore della presente disposizione che sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive funzionali anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità per le quali la visita e la prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Quindi con tale decreto cui stiamo già lavorando insieme con la Direzione Generale della Motorizzazione sarà tra l'altro predisposta alla soluzione auspicata presumibilmente nel senso di prevedere la sostituzione della bombola GPL senza effettuare anche qui la visita e prova. Adottare opportune iniziative per concordare una soluzione più graduale delle proroghe in scadenza delle revisioni e per favorire quanto prima una progressiva ripresa di tali operazioni nel massimo rispetto dei protocolli di sicurezza al fine di evitare sia la gestione di un numero di pratiche insostenibili in un prossimo futuro sia il ricorso all'applicazione di quanto previsto dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 5 del regolamento UE 2020-698 in materia di proroga dei termini previsti alla Direttiva 2014-45 UE. E poi risponderei anche alla lettera F di valutare una tempistica anticipata rispetto a quella attualmente prevista per legge per l'effettuazione delle attività di visita e prova e di revisione previste al codice della strada nelle regioni in cui non si verifichino nuovi contagi ovvero dove questi risultino in costante riduzione. Allora il tema delle proroghe in parola di cui appunta le lettere E e F della risoluzione è come noto stato affrontato dal legislatore nazionale ed europeo. In ogni caso dei dati delle revisioni effettuate dalle officine nel mese di giugno ultimo scorso ad oggi risultano numeri analoghi a quelli che negli anni precedenti e nel dettaglio addirittura superiori. Dalla ripresa delle attività nel mese di settembre infatti sono state effettuate il 24,77% delle revisioni in più rispetto al 2018 nello stesso mese. Per completezza di informazioni riporto anche dati relativi ai mesi di maggio, nei mesi da maggio 2018 a settembre 2020 che conferma nel trend sopra rilevato. E qui Presidente c'è una tabella che mi viene fornita dalla Direzione Generale della Motorizzazione che evito diciamo di leggere ma che chiaramente sarà a disposizione dei commissari per una valutazione. I numeri che comunque sono da maggio a settembre ingoraggianti. Vi leggo soltanto l'ultimo dato. Mentre a settembre del 2018 i veicoli che erano stati revisionati erano 100 un milione 233 mila 476 nel 2019 salivano un milione 326 mila e 37 a settembre del 2020 sono un milione 539 mila e 47 quindi con un aumento del 16,6% rispetto al 2019 addirittura del 24 e 77 rispetto al 2018 con un numero di tutto l'anno fino ad oggi fino quindi alla fine di settembre un numero unico di 7 milioni 298 mila da contrapporre ai 7 milioni 369 mila invece del 2019 quindi diciamo che siamo assolutamente in linea. G valutare l'opportunità di adottare iniziative per predisporre il differimento dell'obbligatorietà delle procedure prescritte all'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017 numero 98 per il rilascio del documento unico di circolazione quale misura di sostegno e semplificazione per cittadini ed imprese del settore. Sul punto si è intervenuto il legislatore più volte citata legge 210 del 2020 in recante conversione con modificazioni del decreto legge numero 76 del 2020 all'articolo 49,59 ha disposto la proroga dal 31 di ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Spiego ai commissari un attimino meglio qual è la nostra intenzione. In accordo con le associazioni di categoria stiamo dicendo che si può utilizzare fino al 31 marzo 2021 la vecchia procedura quando in quel giorno vengono ravvisate dei malfunzionamenti del portale. A quel punto viene inviato un messaggio che spunta direttamente sul terminale dell'agente che lo invita a utilizzare la vecchia procedura. Noi siamo con gli uffici della motorizzazione sempre a monitorare il funzionamento del portale ci siamo dati anche questo tempo per risolvere i malfunzionamenti. Stiamo invitando contestualmente le associazioni di categoria a far però rinnovare il software house che alcune agenzie hanno che purtroppo sono a volte proprio quelli i maggiori indiziati del malfunzionamento. H avviare un percorso di riforma della disciplina vigente in materia di organizzazione funzionamento personale e compiti della direzione generale per la motorizzazione del ministero delle infrastrutture e trasporti di cui alla legge primo dicembre 86 numero 870. Il percorso è stato già avviato ed infatti c'è in itiner un dpcm che riorganizzando l'intero ministero delle infrastrutture e trasporti prevede tra l'altro le nuove competenze della direzione generale. Io vi ringrazio per l'ascolto scusandomi se è stata lunga questa relazione di risposta ma abbiamo voluto con il dottore Calchetti e con la struttura del ministero essere diciamo puntuali il più puntuali possibile per dare appunto una risposta ad una corposa risoluzione che comunque vedeva tutti quanti i commissari della commissione impegnati in legittime richieste. Grazie. Siamo noi viceministro a ringraziare lei per la puntuale relazione. Ora passerei agli interventi dei deputati. In realtà ho solo un iscritto anzi a questo punto due. Onorevole Donina. Grazie presidente. Anch'io velocemente ringrazio il viceministro e ringrazio l'ingegnere Calchetti per la presenza. Sarò velocissimo. Quattro punti. Sollecitava il discorso dell'abbassare il numero dei test da 40 a 20. Ecco io su questo parte secondo noi sarebbe abbastanza contrario nel senso che al primo posto ci deve essere comunque quando si parla di patenti la sicurezza stradale e dei test in più io davvero non sottovaluterei quello lì. Prendo innanzitutto invece in maniera positiva il fatto di portare da 6 a 10 le ore di guida certificate perché quello è molto importante. Per quanto riguarda sono davvero molto perplesso e deluso per quanto riguarda l'elenco di quelli andati tra virgolette in pensione perché il viceministro ci dice che avrebbe un tra virgolette un costo effettuare quell'elenco lì però dato il vantaggio che avrebbero perché questo qua è personale che dal giorno dopo sarebbero già pronti per effettuare gli esami e effettuare soprattutto le revisioni dei mezzi pesanti secondo me al governo converrebbe perché dal giorno dopo iniziamo a incassare molto di più rispetto a quello che incassiamo ora. Quindi facendo il bilanciamento tra le due cose secondo me è un percorso che bisognerebbe valutare attentamente chiedo appunto al viceministro di valutarlo. Mi preme sottolineare ho visto in questi giorni che il viceministro ha ricevuto lui le chiama associazioni di categorie però secondo me sono sindacati di categorie che è ben diverso nel senso io faccio l'esempio della provincia che conosco bene che è Brescia dove Unasca e Confarca non sono associazioni di categorie ma sono sindacati dove le autoscuole si iscrivono però l'ABA che è l'associazione Bresciano Autoscuole secondo me li rappresenta tutti e non viene mai sentita. Gli altri due sindacati spesso parlano a nome di però ho già sentore di parecchie autoscuole che non vogliono più rinnovare la tessera quindi si rischia davvero di avere degli interlocutori che non rappresentano una categoria quindi invito anche il viceministro e il governo a identificare bene le associazioni dopo magari avete parlato con tutte però identifichiamo bene le associazioni che rappresentino realmente una categoria. L'ultima cosa sulle esternalizzazioni siccome l'abbiamo veduta un po' in prima persona mi spiace che ci sia tutta questa lungaggine nel senso che noi tra l'altro avevamo proposto noi quell'emendamento i tempi eravamo al governo avevamo inserito anche rimorchi semirimorchi casualmente è sparito avevamo chiesto che anche solo con una circolare ministeriale si potesse integrare questo ci è stato detto di no abbiamo riprovato però anche lì sempre per entrare nel merito non è che vogliamo per forza esternalizzare lo so che è un problema di certificazioni di attenzione perché si parla di sicurezza stradale però ricordo il viceministro lo sa meglio di me che abbiamo alcune motorizzazioni che hanno un anno di attesa significa far circolare dei mezzi pesanti in ritardo di un anno sulle verifiche secondo me una valutazione attenta anche su questo andrebbe fatta grazie grazie onorevole maccanti grazie presidente do il benvenuto in commissione al viceministro cancelleri la lega particolarmente richiesto insomma la sua presenza qui che poi si è resa assolutamente indispensabile nel momento in cui lei ha avuto la delega alla motorizzazione forse se lei fosse stato presente ma non aveva ancora forse la delega nel momento in cui noi abbiamo elaborato questa risoluzione così come la lega aveva richiesto certe cose insomma le avremmo potute risolvere prima viceministro io la ringrazio per il compitino che lei quest'oggi ha presentato alla commissione però trasponendo la metafora le direi di ritornare perché le direi di ritornare lei ha letto la nostra risoluzione alla quale per carità ancorché invitato non ha partecipato nella fase di realizzazione e ci ha dato alcune risposte però glielo dico francamente a me pare che le le risposte che lei ha dato siano le risposte di chi vive in una realtà completamente diversa dalla realtà che viviamo noi perché lei sostanzialmente è venuto qui e ci ha detto sugli esami delle patenti è tutto risolto addirittura abbiamo il sette per cento in più dell'anno scorso quindi quel problema lì non esiste più sulle revisioni è tutto risolto perché ci ha dato dei dati che ci dicono che lei è soddisfatto per il numero di revisioni che sono state fatte quest'anno ma questa viceministro glielo dico francamente non è la realtà che sta lì fuori perché il problema non era soltanto quello del lockdown e credo che lei lo sappia almeno quanto noi perché già prima del lockdown i tempi di attesa le parlo ovviamente della motorizzazione di torino il collega potrebbe parlare di quella di brescia potremmo citarle quella di bergamo aveva tempi d'attesa che erano assolutamente incompatibili con quelli di un paese civile perché tempi di attesa di oltre un anno per la revisione di mezzi pesanti sono tempi d'attesa che sono inaccettabili e che chi ha incarichi di governo non può presentarsi alla commissione competente che ci lavora da due anni e dire guardate in termini numerici è tutto risolto perché fuori da qui la situazione non è quella e per quanto riguarda le revisioni viceministro io le chiedo politicamente una risposta definitiva perché noi abbiamo approvato nella manovra quando anche la lega era il governo l'esternalizzazione delle revisioni casualmente ci si dimenticò di inserire diciamo un pezzo che avrebbe come dire completato l'iter ma se noi avessimo iniziato in allora così come la lega ha chiesto e le ricordo che il completamento dell'esternalizzazione delle revisioni è presente nel codice della strada ed è stato votato all'unanimità da tutti i gruppi politici allora noi qua ci dobbiamo capire ci dobbiamo capire perché ogni volta che la lega presenta a qualunque decreto l'emendamento che completa l'iter e la possibilità di effettuare le revisioni all'esterno il governo regolarmente le boccia e allora ce lo dovete dire e allora ci dovete dire noi non vogliamo esternalizzare le revisioni lo dovete dire con chiarezza è una scelta politica e allora a quel punto noi vi guardiamo e vi diciamo bene qual è la vostra soluzione perché quella è la soluzione che abbiamo individuato noi e non è vero che le associazioni non sono d'accordo perché la CNA dovrebbe avervi eh inviato e comunque ha chiamato a raccolta tutti i parlamentari inizialmente piemontesi per chiedere di sottoscrivere un appello dei centri di revisione per la possibilità di esternalizzare allora mettiamoci d'accordo il compitino io la ringrazio sono felice di averla conosciuta le do il benvenuto in commissione però le chiedo davvero di ritornare con risposte che siano aderenti alle domande che sono qua fuori grazie onorevole grippa grazie presidente ringrazio il viceministro cancellieri per essere venuto qui oggi a riferire sulla risoluzione ehm approvata a largo consenso dalla eh dalla commissione ehm una una risoluzione mh proprio di ehm che ha trovato diciamo un equilibrio dei punti d'incontro di tutte le forze politiche ehm io le chiederei anche se è possibile depositare in commissione la relazione in modo da approfondire quelle che sono state le sue eh risposte e quelle della motorizzazione visto che è presente l'ingegner Calchetti e purtroppo io devo mh qualche modo a gangiarmi a quello che ha detto la collega Maccanti perché è vero che durante il periodo del lockdown la situazione è peggiorata e comunque c'era stato un blocco sia per eh il conseguimento delle patenti sia per quanto riguarda le revisioni però questo era un problema che era ehm diciamo retrattivo eh sicuramente è peggiorato lo ripeto durante il periodo del lockdown però questi sono problemi che perdurano da anni e lo dico con fermezza e eh con condizione di causa perché lavorando in un'azienda di autotrasporti so cosa succede all'interno per quanto riguarda le revisioni dei mezzi pesanti. Ero favorevole anch'io alla esternalizzazione della eh delle revisioni dei mezzi pesanti eh come la Lega anche perché eh questa richiesta eh oltre a pervenire dalle 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 varie associazioni di categoria ehm siamo stati contattati effettivamente come dice dalla Maccanti dalle eh anche dalla CNA quindi non capisco adesso questo passo indietro da lei affermato da queste associazioni che a noi dicono una cosa e al governo e dicono esattamente il contrario quindi sarebbe opportuno che a questo tavolo a questi tavoli che lei ha intenzione di ehm effettuare all'interno del ministero potessimo partecipare anche noi rappresentanti parlamentari proprio per evitare rappresentanti ehm deputati ehm proprio per metterci per per mettere di fronte queste associazioni sul fatto compiuto quindi devono effettivamente dire cosa vogliono e cosa intendono fare perché a noi dicono una cosa al governo e dicono esattamente il contrario quindi proprio per una maggiore trasparenza e una maggiore chiarezza e credo che sia stato interpretato eh malinterpretato il punto nove eh perché è vero che esiste una della direttiva europea dove impone che ci devono essere delle regole ben precise ma noi eh chiedevamo un aumento da sei alle dieci ore delle lezioni di guida certificate perché molto spesso eh quello che c'è stato riferito non sono sufficienti e quindi chiedono agli esaminanti di ehm procedere con altre ulteriori guida a pagamento e se era possibile visto che comunque se una volta che si aumentano queste ore di guida caso mai ridurre quelle in fase di ehm di esame era tutto qua quindi volevo chiarire anche questo punto grazie grazie ancora grazie onorevole De Lorenzis grazie presidente io approfitto della presenza del viceministro Cancelleri e anche dell'ingegner Calchetti eh perché evidentemente alcune delle dei quesiti posti eh nei dispositivi della risoluzione alcune problematiche sollevate dai colleghi eh abbiamo cercato di ehm risolverle anche appunto attraverso il testo eh che è ancora in commissione sul codice della strada sulle modifiche del codice della strada e nello specifico sui tempi eh relativi allo smaltimento delle pratiche eh nello specifico delle eh dell'ottenimento delle patenti delle diciamo di licenze di guida ehm da questo punto di vista avevamo ipotizzato come soluzione per venire incontro prima del lockdown alla eh come dire alla difficoltà che le le autoscuole incontrano eh nei tempi appunto di ottenimento della eh della patente per diciamo per i frequentanti il corso ehm di estendere anche la durata per esempio della eh del del cosiddetto foglio rosa ehm lei vice ministro ha citato delle percentuali di incremento evidentemente anche dovute alle nuove assunzioni alla riorganizzazione che il ministero sta facendo da questo punto di vista eh vorrei capire se quella norma come dire vale la pena portarla avanti perché eh risulta una facilitazione rispetto al disagio che eh si viene creato eh ai clienti delle autoscuole oppure se con questo tasso diciamo di eh smaltimento delle delle degli esami delle patenti eh l'estensione del del foglio rosa che noi se non sbaglio avevamo eh esteso a eh un anno credo a due anni eh è una misura che vale la pena eh tenere questo credo che sia utile diciamo sono intervenuti in qualità di relatore al provvedimento per avere un chiarimento su questo approfittando della presenza anche dell'ingegner Calchetti grazie. Grazie. Io non ho altri interventi eh segnati quindi se siete d'accordo darei la parola al vice ministro Cancelleri per la replica. Sì grazie presidente. E allora al di là delle eh differenze ehm politiche ovviamente che poi portano i commissari ad avere eh una una visione piuttosto che un'altra poi si sta parlando comunque di dati oggettivi per cui ehm analizziamo i numeri. Ecco quelli che abbiamo noi relativamente alle revisioni sono dati chiaramente incoraggianti. Non viviamo in nessun altro pianeta se non in questo nel suo stesso ovviamente e eh e viviamo praticamente con il rapporto con le associazioni di categoria eh con lo stesso impegno col quale lo vivete voi svolgendo la funzione eh in maniera egregia di parlamentari. Eh il tavolo permanente servirà proprio a guardare eh da da vicino e e subito a trovare le soluzioni con tutti gli attori principali di questa questione. Io se volete può farsi anche una rappresentanza eh della commissione che può assistere e può prendere parte dei lavori del tavolo perché no mi sembra anche una eh un bel arricchimento ecco dal punto di vista eh del delle presenze e che però deve portare un attimino a fare chiarezza perché non c'è nessun altro più del governo che voglia risolvere chiaramente i problemi eh delle lungaggini anche perché sappiamo bene che mentre le nostre forze dell'ordine tollerano eh le eh le prenotazioni per le revisioni dei mezzi pesanti spesso e volentieri le associazioni dei trasportatori poi ci dicono che all'estero invece non c'è questo tipo di tolleranza per cui noi dobbiamo effettivamente risolvere questo problema che io anche nella relazione cito come punto critico non abbiamo minimamente voluto sottovalutare quelle che sono in questo momento le liste però i dati allo stato attuale sono assolutamente confortanti è evidente che non c'entra niente il covid bisognava fare di più anche prima benissimo ma noi siamo qui al lavoro proprio per portare soluzioni a questo tema vogliamo trovarle insieme alle associazioni di categorie e quindi agli attori principali a tutti i centri di revisione però io vi prego di credermi quando vi dico che probabilmente non tutti sono d'accordo o messi davanti alla scelta del governo che diventa possibile nel trasferire a loro la responsabilità di fare le revisioni sui mezzi pesanti non sempre queste rispondono in maniera positiva anzi ci invitano a fargli fare altri tipi di collaudi come quello dei ganci come quello di altre situazioni che sono chiaramente non così di grande responsabilità però non è che dobbiamo stanare nessuno noi dobbiamo risolvere un problema per cui dobbiamo metterci a lavorare con loro con grande serietà io in questi mesi ho conosciuto la maggior parte dei rappresentanti della di questa categoria e devo dire che di fronte ho sempre trovato persone che oltre a buon senso hanno una grande voglia anche di lavorare di sostenere un settore che è comunque fra i più importanti d'italia per quello che riguarda anche le lungaggini per gli esami e le patenti ora poco fa parlavamo dell'elenco ma non c'è nessuna preclusione da parte del governo di voler andare ad effettuare un elenco o un albo nel quale gli abilitati possono dare la loro adesione possono scriversi e possiamo attingere però forse passate in secondo piano e di questo chiaramente me ne scuso perché è evidente che la relazione è forse stata poco incisiva in quel punto però noi abbiamo richiamato un punto sulle assunzioni nuove assunzioni e soprattutto anche sullo scorrimento delle graduatorie che vorrei che non vedeste come una tantum è partito un percorso che porterà ancora di più non solo ad ingrossare le fila degli addetti agli esami e quindi dei dipendenti della motorizzazione ma soprattutto è volto anche ad un ricambio generazionale che si sta rendendo necessario vista l'età di alcuni impiegati della motorizzazione civile e questa cosa noi la vogliamo fare rispettando la legge sul vincolo del 100% delle persone che vanno in quiescenza e quindi le sostituiamo ma soprattutto attraverso anche il fatto che possiamo comunque assumere nuove persone e possiamo mettere in campo queste cose qui poi sul portale noi ci interrogavamo semplicemente per una questione io devo mettere di fronte a voi e voi siete chiaramente il Parlamento e per cui siete i legislatori possiamo farle insieme una proposta per carità però bisogna trovare i denari per poter mettere in piedi un portale nel quale le persone si debbano scrivere ed è un costo che dobbiamo identificare che dobbiamo sostenere e che soprattutto dobbiamo allocare di anno in anno perché poi questo portale va fatto funzionare va manutenzionato e tutta una serie di attività corredo che devono essere propedeutiche al buon funzionamento. Io credo che siano queste le questioni fondamentali per cui do grande spazio a quella che deve essere il lavoro che dobbiamo fare attraverso questo tavolo tecnico che già vi dico da ora intendo fissare diciamo a brevissimo senza far passare troppo tempo e quando insomma cominceremo a lavorare vedete anche che io sono poco avvezzo alle chiacchiere io voglio fare proprio i fatti li voglio fare subito per cui se questa commissione poi tutta insieme arriva a delle soluzioni delle problematiche noi qui possiamo inserire norme in finestre legislative con una celerità che fatemela definire entusiasmante quindi davvero diventa una cosa molto molto bella che può portare anche appunto i benefici non dimenticandoci però che abbiamo a che fare con direttive europee che non possono essere eh in nessun modo scavalcate e che quindi dobbiamo rispettare e soprattutto ricordandoci anche che alcune leve che andiamo a muovere possono essere leve che poi corrispondono a maggiori eh eh esborsi per il cittadino mi riferisco ad esempio al momento dalle 6 alle 10 ore per carità del tutto legittimo perché noi sosteniamo e vogliamo tifare sempre per la sicurezza stradale però dobbiamo anche andare a dire che questo aumento di ore obbligatorie è un in più che chi si iscrive alla scuola guida deve pagare quindi dobbiamo trovare secondo me commissioni giuste senza fare diciamo un danno a nessuno e senza per forza fare eh guerre di parrocchia che chiaramente poi non servono non servono a nessuno sull'ultimo punto eh della del foglio rosa dell'estensione del foglio rosa noi eh chiaramente siamo eh assolutamente in linea con quella che in questo momento è stata la decisione eh del Parlamento per cui questo non è il momento di andare a cambiare niente mi pare che abbiamo delle eh dei tempi giusti che li stiamo garantendo per cui continuiamo con eh in quel modo e garantiamo quello che ad oggi viene garantito alla legge dello Stato grazie viceministro Cancelleri eh ringrazio anch'io il direttore della motorizzazione Calchetti e eh accogliamo con grande interesse questa apertura alla diciamo coinvolgimento della commissione nel tavolo diciamo citato eh anche perché abbiamo lavorato con grande serietà a questa risoluzione quindi l'idea di provare a gestire in qualche modo insieme la fase attuativa eh ci entusiasma e e quindi la ringraziamo per questa disponibilità davvero vi ringraziamo complessivamente per il contributo portato e dichiaro chiusa l'audizione grazie 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 grazie